Sembrava la conclusione di un sabato sera allegro come tanti altri, ma questa volta l'epilogo si è trasformato in tragedia. Sono questi gli ultimi attimi di vita di Christian Fiocca, 34enne, residente a Osteria Nuova, che nella notte tra sabato e domenica scorsa è deceduto in seguito ad un incidente accaduto sulla Montelabattese. Erano le 4.40 circa quando il giovane, padre di una bambina di pochi anni, stava rientrando a casa da una serata con amici e proprio in quel tratto di strada che ha percorso tantissime volte si è consumato il dramma. Alla guida della lancia Y10 di proprietà della compagna, Christian si stava dirigendo verso la rotatoria dello specchio di Montelabate e proprio dalle telecamere di sorveglianza dello svincolo stradale si è potuta notare la velocità sostenuta del veicolo. Velocità che poi non gli ha permesso di percorrerla correttamente, portando l'auto a sorvolare prima sopra la rotonda e poi a scantarsi sul guardrail lungo la carreggiata. Per l'uomo è stata fatale la mancata allacciatura delle cinture di sicurezza che gli hanno causato un gravissimo trauma cranico impedendo a Christian di salvarsi facendolo morire sul colpo. Una botta tremenda che ha svegliato in piena notte alcuni abitanti di Montelabate che immediatamente hanno contattato il 118 ma una volta che i sanitari sono arrivati sul posto non gli è rimasto altro che constatare il decesso. Christian, che da anni lavorava come autotrasportatore per la ditta di Graziano Guerra lascia una figlia, una compagna, i genitori, una sorella e un fratello. Alle due e mezza di mercoledì pomeriggio poi si sono svolti i funerali al campo comunale di Osteria Nuova che in questo momento di pandemia ha potuto ospitare senza limitazioni chi voleva fargli un ultimo saluto. Saluto che è stato colorato da numerosi palloncini a forma di cuore e dalle parole dolci della figlia Melissa che ha voluto ricordare suo padre come una persona solare e altruista. A far scendere altre lacrime dagli occhi di chi lo conosceva ci ha pensato un video di tante foto fatto dagli amici che sulle note di una vita spericolata di Vasco Rossi hanno voluto abbracciarlo per un'ultima volta. Grazie a tutti.